Trashida leg! Oggi parliamo dei nomidi tibetani. I nomidi o droppa. In tibetano sono persone dallo spirito libro, che viaggiano attraverso le pratterie con i loro bestiemi di yak e pecore, e vivono in tente. I nomidi vivono in armonia con la natura, seguono i suoi ritmi, si spostano in base all'alternarsi della stagione, alla crescita dell'erba dei pascoli e alla fase riproduttiva del loro animale. Gli yak forniscono tutto ciò di cui i nomidi tibetani hanno bisogno per vivere. Latte, burro, carne con la sua pelle creano abiti e capelli, e le tame utilizzate come combustibile. I nomidi svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere il fragile equilibrio ambientale dell'alto piano tibetano. Grazie! Se ti è piaciuto il video, regalarci un like e condivido con i tuoi amici. Grazie!